Passiamo all'interpellanza urgente 2.72 dei deputati Luigi Di Maio e Lombardi, concernente elementi ed iniziative di competenza in relazione allo sviluppo delle indagini che coinvolgono il prefetto Francesco Lamotta. Chiedo all'onorevole Di Maio se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Presidente, Governo, colleghi deputati. Ci troviamo qui oggi a parlare di una vicenda estremamente delicata riguardante un prefetto, un servitore dello Stato, che è colpito da gravissime accuse. Si tratta del prefetto Francesco Lamotta. Innanzitutto ritengo opportuno, affinché sia chiara a tutti la portata della vicenda, svolgere una premessa per ripercorrere gli ultimi anni della carriera di questo prefetto, servitore dello Stato. Dal 2003 al 2006 ha ricoperto la carica di direttore centrale per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto, FEC, presso il Dipartimento delle Libertà Civile e dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno. E ha amministrato il cosiddetto patrimonio concordatario, che almeno in teoria dovrebbe assicurare la tutela e la salvaguardia di beni di altissimo pregio storico artistico. Secondo quanto risulta dal sito del Ministero, l'obiettivo del Fondo, infatti, sarebbe assicurare la tutela e la valorizzazione, la conservazione e il restauro di beni di proprietà costituiti per la maggior parte da edifici sacri, spesso di grande interesse storico-artistico, ma anche dalle opere d'arte, dagli arredi in essi custoditi, dai mobili produttivi di rendite, da aree boschive e da un fondo librario antico. Il 27 dicembre 2006 il Prefetto Lamotta è stato nominato Vice Direttore Vicario del SISDE e, a seguito della riforma dei servizi segreti, dal 5 novembre 2007 è stato nominato Vice Direttore dell'Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Interna. Il Prefetto Lamotta resta Vice Direttore della Isi fino a marzo 2013, data del pensionamento, pur mantenendo anche in seguito, a quanto risulta ai deputati interpellanti, ufficio, contratto di consulenza e autista, nonostante quanto previsto al comma 9 dell'articolo 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, laddove viene fatto espresso divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quescenza che abbiano svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Dal quadro che ho delineato emerge con una certa chiarezza che il Prefetto Lamotta ha goduto e probabilmente tuttora gode, tra le forze politiche che si sono alternate nell'ultimo decennio al Governo del Paese, di una fortissima stima bipartisan che assume i contorni inquietanti alla luce delle notizie diffuse sulla stampa nelle ultime settimane che mi accingo ad illustrare. Si apprende infatti dai principali organi di stampa che il Prefetto Francesco Lamotta, dopo che il suo nome era già emerso nelle indagini napoletane sulla cosiddetta P4 per alcuni contatti con Luigi Bisignani, sarebbe coinvolto in alcune indagini molto delicate. Secondo le accuse riportate da tali organi di stampa, si apprende che il Prefetto, negli anni in cui era capo del FEC, avrebbe deciso di inviare circa 10 milioni di euro alla banca Ottinger in Svizzera, tramite Rocco Zullino, cittadino svizzero, e Edoardo Tartaglia, di San Giorgio a Germano, in provincia di Napoli, produttore cinematografico e cugino dello stesso Prefetto Lamotta. Zullino e Tartaglia sarebbero stati fermati dai PM della Procura di Napoli il 7 maggio scorso, il primo con l'accusa di associazione mafiosa e riciclaggio aggravato dal favoriggiamento della criminalità e il secondo per riciclaggio aggravato. L'accusa, secondo i pubblici ministeri, sarebbe di aver riciclato 7 milioni di euro del clan camorristico dei Polverino. Mentre li intercettavano, gli uomini dei Carabinieri di Napoli avrebbero scoperto che i due amici del Prefetto Lamotta avrebbero gestito anche i soldi del FEC. È a questo punto che i PM di Napoli, Marco Del Gaudio, Antonello Ardituro e Cristina Ribera avrebbero stralciato la questione del FEC e inviato le carte a Rome, dove il PM Paolo Eglielo avrebbe indagato il Prefetto stesso per peculato e corruzione. Sempre secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nell'interrogatorio dello scorso 13 maggio, il finanziere svizzero Zullino avrebbe dichiarato che il FEC ha versato totalmente 8 milioni. Il Prefetto Lamotta ne ha prelevati in tutto 6 o 7. Nel 2009 la posizione era totalmente prosciugata. Tuttavia, tali dichiarazioni susciterebbero lo scetticismo dei pubblici ministeri. A questo punto, chiunque si chiederebbe, ma come è possibile che il Prefetto Lamotta abbia potuto assumere simili decisioni in solitudine? Chi sapeva all'interno del Dipartimento e del Ministero? Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa, lunedì 3 giugno scorso, presso la Procura della Repubblica di Roma, sarebbero stati sentiti come persone informate sui fatti dai PM di Roma e Napoli ben sette alti funzionari del Ministero dell'Interno, ovvero tutta la struttura che sovrintende alla gestione dei fondi del FEC. E pare che l'indagine si stia allargando anche al Viceprefetto Rosa Maria Frisari, contitolare del potere di firma sul conto del FEC. Peraltro, sempre da fonti di stampa, si apprende a questo proposito che una volta venuta a conoscenza della vicenda attraverso una comunicazione dell'Istituto di Credito Svizzero che comunicava l'avvenuto prosciugamento dei conti intestati al FEC, lo scorso 5 aprile il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, avrebbe nominato una commissione di inchiesta interna, concedendo tre settimane di tempo, le cui attività lo scorso 30 aprile sono poi state prorogate fino al 30 maggio. Ad oggi non abbiamo notizia delle risultanze di tale commissione di inchiesta. Secondo fonti di stampa, la contestazione di corruzione si riferisce ad alcuni vantaggi personali e anche economici che la motta avrebbe ottenuto durante la gestione degli edifici di culto e, in questo senso, la decisione di sottoporlo a perquisizione mira a scoprire se possa aver compiuto illecite anche durante la sua permanenza al vertice dell'intelligence. Oltre a tutto questo, i PM della Procura di Napoli starebbero indagando su un presunto legame con il produttore cinematografico Tartaglia, arrestato per i suoi rapporti con il clan Polverino e cugino della moglie del prefetto. Da fonti di stampa emerge, infatti, che la motta sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per i reati di partecipazione in associazione per delinquere, favoreggiamento personale continuato e aggravato e rivelazione di segreto d'ufficio. I PM, infatti, vorrebbero verificare le affermazioni del pentito Roberto Perrone, ritenuto molto attendibile dai magistrati, il quale parla di alcuni interventi di la motta che, oltre ad aver fornito informazioni a Tartaglia, avrebbe fatto da Deus ex machina anche in altre occasioni, come nel caso dell'acquisto dell'arsenale della Marina Militare di La Spezia, su cui la camorra vorrebbe mettere le mani. Alla luce di tutto questo, vorremmo sapere se vi siano ulteriori elementi a conoscenza del Governo in merito ai fatti esposti, se il Governo stesso abbia intenzione di rievocare l'incarico di consulenza che, a quanto risulta, la struttura di intelligenza avrebbe assegnato al Prefetto Francesco Lamotta, non solo alla luce delle accuse che indurrebbero ad una grandissima cautela, ma anche alla luce di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012 sulla cosiddetta Spending Review. Quali siano, al momento dello svolgimento del presente atto, le risultanze della Commissione d'inchiesta interna disposta dal Ministro Cancellieri, i cui lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 31 maggio scorso. Se il Governo non ritenga di avviare ulteriori indagini interne, volte a far chiarezza sulle attività e le gestioni passate del Prefetto Lamotta, soprattutto alla luce dell'estrema delicatezza degli incarichi da lui ricoperti, se al Governo risulta che abbia autorizzato il Prefetto Lamotta al trasferimento del denaro all'estero, o perlomeno chi fosse a conoscenza di ciò, quali provvedimenti il Governo intende assumere al fine di cercare di recuperare questi 10 milioni di euro che, secondo le accuse, il Prefetto Lamotta avrebbe distratto dai fini istituzionalmente predefiniti. Confidiamo che l'Esecutivo sia consapevole della gravità delle accuse che stanno colpendo questo Prefetto e che abbia quindi tutto l'interesse di fare piena luce a tutti i livelli a 360 gradi su queste oscure vicende. Grazie. La ringrazio, Onorevole Di Maio. Il Sottosegretario per l'Interno, Gian Piero Bocci, ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'interpellanza dell'Onorevole Di Maio e Lombardi chiede al Governo, come è stato ricordato, elementi informativi circa la vicenda che ha coinvolto il Prefetto Franco Lamotta, in qualità di Direttore Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, in carico rivestito dal predetto funzionario dal 25 febbraio 2003 al 15 dicembre 2006. Tale vicenda vede implicato il Prefetto Lamotta, insieme ad altre persone, in indagini preliminari attualmente in corso per i reati di peculato, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e falsità ideologica in atto pubblico, a cui stanno attendendo le procure di Napoli e Roma. Da questo punto di vista voglio rispondere all'Onorevole Di Maio, assicurandolo che da parte del Ministero dell'Interno, del Governo, c'è tutto l'interesse a fare piena luce su questa vicenda e quindi non c'è alcuna volontà di ostacolare questo percorso nell'interesse del Paese. I fatti oggetto di accertamento penale riguardano, tra l'altro, lo ricordava l'Onorevole Di Maio, la sottrazione di un'ingente somma di danaro ammontante a poco più di 10 milioni di euro, proveniente da rendite patrimoniali che erano state investite, al pari di altre risorse, in prodotti finanziari per effetto di una complessa attività contrattuale con operatori di diritto svizzero, riconducibili alla banca che è stata ricordata con sede a Zurigo. Giova a precisare che, su sollecitazione della stessa direzione centrale del Ministero dell'Interno, al cui vertice era subentrato altro funzionario, si è potuto prendere atto della circostanza che le rendicondazioni formali in possesso dello stesso ufficio, l'ultima delle quali, risalente alla data dell'11 luglio 2012, è attestante una disponibilità patrimoniale di poco superiore all'investimento iniziale, risultavano essere state non prodotte dalla citata Banca Svizzera. In effetti, l'amministrazione da qualche tempo, anche in conseguenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti finanziari, aveva deciso di avviare una nuova e più prudente strategia di investimento, orientata sull'acquisizione di titoli governativi emessi dai Paesi dell'Eurozona, contestualmente procedendo alla dismissione di forme di investimento finanziario che non avessero queste caratteristiche. E proprio a seguito di questa nuova strategia, dopo ripetute interlocuzioni con l'Istituto Il Vedico avviate fin dal giugno 2012, è stato possibile appurare il forte ammanco patrimoniale subito dal FEC. Venuta a conoscenza di tale grave circostanza, l'amministrazione ha immediatamente dato avvio ad un'inchiesta, costituendo una commissione nominata al Ministro dell'Interno Pro Tempore il 5 aprile scorso, composta da qualificati esperti estrani all'amministrazione stessa, la quale ha concluso i suoi lavori lo scorso 17 maggio. L'approfondita relazione consegnata dalla citata Commissione, che ha consentito un'esaustiva ricostruzione dei fatti, confermando i fattori di rischio dell'investimento, non in linea con i canoni di prudenza dell'investitore pubblico, è stata partecipata alla Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Roma. Parallellamente, la competente articolazione ministeriale, giovandosi delle indicazioni fornite dalla predetta Commissione, ha avviato le necessarie procedure legali a difesa degli interessi erariali e per il recupero del capitale investito. Per quanto attiene invece alla posizione del Prefetto Lamotta, si informa che il funzionario è stato sollevato definitivamente dall'incarico di consulenza presso l'AIS il 15 maggio scorso. La ringrazio, signor Sottosegretario. L'Onorevole Di Maio ha facoltà di dichiarare se si sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie, Presidente. Io sono parzialmente soddisfatto per le risposte datemi dal Sottosegretario, ma la mia soddisfazione è relativa in quanto fatti del genere che in qualche modo portano alla luce ogni tanto nel nostro Paese intrecci tra politica, parti dello Stato, organizzazioni camorristiche. Mi inquietano non poco, inquietano credo non poco anche questo Parlamento e spero che si possa arrivare a far luce su questa questione quanto prima, che la Magistratura possa far luce su questa questione quanto prima e il mio invito a tutte le parti politiche è tenere in qualche modo i riflettori puntati su questa vicenda e non fare in modo che come tante altre vicende di commistione tra parti dello Stato e distrazione di ingenti patrimoni e così via poi finiscano nel dimenticatoio e anche sentenze importantissime vengano in qualche modo non considerate come all'inizio dalla stampa, dagli organi di informazione. In questo credo che le forze politiche abbiano una grande responsabilità. Vi ringrazio. Vi ringrazio.